Buongiorno a tutti, vi siete mai chiesti quali segreti può avere Windows XP? C'è la fatidica canzone segreta? E infine c'è anche una simpatica storiella di Star Wars fatta in codice ASCII. Con Windows XP basta premere Start, Esegui e digitare telnet-towel.blinkandlines.nl Non avrete paura, il codice lo potete trovare nella descrizione. Clicchiamo quindi su OK e apparirà questa schermata. Con questa schermata dobbiamo attendere. E senza toccare niente, in un istante partirà quindi la storia di Star Wars. Con la 20th Century Fox, la storia di Star Wars. Per prima cosa ci sarà il logo di Star Wars, poi partirà tutta la scritta dell'episodio quarto. Una nuova speranza. Ricordo comunque che questo servizio è applicabile sì su Windows XP, che anche su Windows Vista. E potremmo goderci fino in fondo tutto Star Wars, ma rigorosamente in codice ASCII. C'è tutta la storia. A questo punto non resta che augurarvi una buona visione. Grazie a tutti di aver guardato il mio video. Grazie a tutti.